Era una bravissima, guarda mi viene da piangere, una persona che è impossibile da farci del male a quella persona. Era molto brava, buona, 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 buona. E' uno shock pure per noi. Non se la sarebbe mai aspettato poi tra l'altro? No, assolutamente no, assolutamente no. Guarda siamo tutti increduli di quello che è successo e la cosa che mi fa rabbia è che nessuno abbia servito niente di quelli che abitano giù. Siamo sulla scena di un delitto, di un atroce delitto. Una donna di 81 anni, Anna Lupelli, è stata colpita otto volte, è stata attinta otto volte con un coltello. La cosa particolare di questa vicenda è che non ci sono segni di scasso negli accessi all'abitazione e all'interno, secondo quello che ci è stato raccontato, a meno della scena cruenta di questa donna in cucina riversa in una pozza di sangue, non sono stati trovati segni di una rapina, di un colpo andato male. La casa era in ordine, non c'era nulla, era stato messo a soccuadro. I vicini sono sotto shock, la dipingono tutti come una persona riservata, una persona amichevole. Non si sa se la donna possa aver aperto a qualcuno che conosceva o se un estraneo possa essersi introdotto anche approfittando in qualche situazione la nonna lo faceva, ovvero della porta aperta. Quando il periodo estivo che faceva caldo la lasciava sempre aperta quella porta, sia la porta d'ingresso che la congelata. Non mi ricordo perché di colpo ho sentito suonare il citofono, io sono andato e dice chi è? Posta? Io ho detto posta. E chi è? A me la posta? Dice signora aprite, aprite, aprite. E la posta? Ho sbagliato di aprire, ma quando uno sente posta deve aprire. E quindi io ho aperto. Non lo so l'orario, ma bene. Qualora chi ha ucciso la signora Anna fosse entrato da quella porta, facendosi aprire da quella porta, c'è la possibilità che non ci sia stato il segno dello scasso perché una volta chiusa, essendo elettrificata, non c'è più la possibilità di entrare. Quindi l'apparenza è quella della mancata effrazione. Restano tante domande a cui dare una risposta e proprio mentre parliamo gli investigatori stanno ascoltando la gente del palazzo. L'ultimo aggiornamento arriva dall'esame autottico, dall'esame esterno sul cadavere della donna che a quanto pare ha tentato di difendersi dai fendenti. Tra l'altro il medico legale Francesco Introna ha trovato sulle mani della vittima lesioni, oltre a quelle sul torace e sull'addome. A me dispiace molto di quel che gli è successo. Mi dispiace veramente. Non meritava questo. Lei si è barricata in casa, immagino abbia paura, no? Io stanotte non riuscivo a dormire perché è un conto che uno muore di morte naturale, però poi sapendo che è morta, l'ha uccisa, io sono rimasta stupita proprio. Mi sono sentita male. Portone è assolutamente tranquillo. Mia madre vive qua da più di 40 anni. Conosceva la signora Anna? Sì. Anni cinque. Sembrava non uscita di un film ieri, quando ho accompagnato mio padre che sono anche loro anziani, quindi adesso c'è tanta paura. Tanta. Non le ha raccontato nulla sua madre rispetto al fatto che potesse aver sentito qualcosa di strano, visto qualcosa? No, assolutamente no. Perché sono stata io ieri mattina qua e era tutto tranquillo. Tutti sono increduli, non riescono a capacitarsi di come una donna così riservata, così amichevole con tutti, sempre discreta, possa aver fatto una fine del genere.